Perfetto. Punto 11. Lavori di somma urgenza, eventi calamitosi, maggio 23 a Castellano Monti. Essenze dell'articolo 163 e varie. Chi lo spiega? Allora, qui dopo il mio collega Severi vi farà l'elenco più preciso degli interventi. Io spiego solo la procedura. Allora, essendo questi lavori fatti in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali di giugno, dobbiamo fare un riconoscimento di debito fuori bilancio. Non perché anche qui il Comune non avesse i soldi, ma poiché la nuova normativa del TUEL prevede che in situazioni di somma urgenza la procedura da seguire sia quella del riconoscimento di debiti fuori bilancio. Comunque, i soldi sono... la copertura c'è a bilancio, grazie alla... Provate pazienza un secondo, eh... Grazie comunque all'assegnazione dei fondi da parte della protezione civile per una somma di 747.496,92 euro. Per cui si tratta semplicemente... ecco, c'è scritto debito fuori bilancio perché è una questione procedurale, non sostanziale. Quindi la copertura a bilancio c'è e gli interventi adesso li espone Severi. Allora, gli interventi sono quegli interventi che abbiamo già in parte quasi completati. Sono stati assegnati direttamente alle imprese che hanno... sono entrate subito anche in somma urgenza. Se volete vi elenco le imprese. Le imprese sono la CEAG, Escavazione Predelli, RCM Impresa Costruzione, Tazzoli e Magnani, Morani Daniele, la COFAR, 14 impianti perché a Gatte c'era stato un problema sul pozzo, Romei Group che deve... lui qui è da completare, si tratta dei pali da mettere su in via Fratelli Cervi nella parte alta, Ameco Costruzioni, cioè Ameco SRL scusate, che ha fatto con l'impresa di Baiso degli asfalti, il geologo Paolo Beretti che ci ha fatto delle perizie sui vari territori dove ancora dobbiamo poi intervenire per fare delle palificazioni e l'ingegnere che ci ha curato le pratiche. Allora, per questo qui l'importo, l'ha già detto Daniele, sono i 747 mila euro, 496 mila. L'importo della CEAG, qui abbiamo la località La Gatta, le botteghe e il Mulinello, tra la CEAG e i Predelli sono 103 mila euro a Gatta e i 23 mila euro al ponte del Mulinello che quello è in fase di finitura però è già stato assegnato e a breve arriverà. L'RCM è intervenuto in sommo urgenza su due strade, a Felina, la Magonfia e l'altra andrà verso Via Tegge, per 7 mila e 810 euro. Tazzioli e Magnani lo qui è da fare perché si parla del ponte del Mulinello e quello che si deve finire. Morani è intervenuto sugli espurghi perché anche qui abbiamo trovato degli attraversamenti che abbiamo dovuto riaprire per 2.112 euro nelle varie località dove ce n'era bisogno, dove abbiamo trovato gli attraversamenti stradali chiusi. La cofera è intervenuta a Vessolo che abbiamo rifatto delle caditoie, delle cunette e dell'asfalto ad andare giù a Vessolo e a Casale anche lì perché c'erano state delle tracimazioni di acqua su alcune zone verso il Casale. 14 impianti, come ho detto, è intervenuto nell'impianto di Gatta perché dove c'hanno il pozzo era partita la pompa, si era bruciata perché era andata dentro del terriccio, è stata ripulita e sostituita per 3.986 mila euro. Romei, l'importo, questo qui è quello che è già stato assegnato, anzi partirà a breve, sono 185 mila euro, sono la palificazione ma non nella parte sotto, nella parte in alta, come sapete c'è un tratto di strada dal 65 al 67 e 69, numeri civici che sta cedendo, c'è un cedimento, anche qui abbiamo fatto fare le perizie a Paolo Beretti, al geologo e ci ha consigliato di fare una palificazione. A Meco, come ho detto, è intervenuto con degli asfalti, abbiamo asfaltato a Cadelcavo, via Belessere, a Felina, per un totale con la ditta di Baeso, per 124 mila euro. Geologo Beretti per le varie perizie che alcune le abbiamo fatti i lavori, poi le abbiamo fatte delle altre a Virola su via Frascaro, le ha fatte a Felina in via Sabione, le ha fatte su a Palareto via Tezze, ce le ha fatte qui dietro alla piscina dove c'è l'albergo che dovrebbe poi essere terminato, perché anche lì c'è un po' di cedimento, e in via Boschi. Queste qui sono tutti poi i lavori, quelli che non ho citato adesso, che saranno assegnati con i due milioni che ha detto Daniele, che andremo ad assegnare a breve, e verranno iniziati il primo possibile all'inizio del 2024. E l'ingegnere che ci ha seguito i lavori sono 19.793 mila euro. Questo è un importo totale di 747 mila e 496 con tutte le delibere e i lavori sono quelli calamitosi di maggio e giugno che praticamente sono già i fondi, già stati assegnati a parte due lavori, sono quasi tutti terminati. Se avete delle domande... Bene, se ci sono domande, quindi mettiamo in approvazione ringraziando sia Giorgio che Daniele per il lavoro che hanno fatto rispetto a questa calamità che è stata un po'... ci ha messo un po' di traverso rispetto alle cose che sono avvenute, quindi penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Quindi io metto in approvazione il punto 11, chi è d'accordo? Grazie. Astenuti? Un astenuto. Contrari? Due contrari. Immediato esecutività? Chi è d'accordo? Grazie. Astenuti? Uno. Contrari? Due. Perfetto. Razionalizzazione periodica e le partecipazioni. Punto 12. Razionalizzazione periodica.